Domenica 6 ottobre a Clusone l'Unione Ciclistica San Marco Bertova con il patrocinio della città di Clusone ha organizzato il secondo trofeo OET Costruzioni Metalliche, gara ciclistica per la categoria giovanissimi. Sono stati circa 200 i giovani ciclisti in gara impegnati su un anello di circa un chilometro che si è sviluppato all'interno dell'area industriale exolcese con partenze arrivo in via Ingegner Balduzzi. Un anello da ripetere due volte per i più giovani fino alle 18 volte per i più grandicelli. Nella categoria G1 i nati nell'anno 2017 ha vinto Leonardo Casorati dello Spirano. La gara G2 maschile per i nati nel 2016 è stata vinta da Tommaso Birolini del ciclo team Nembro tra le femmine che hanno gareggiato insieme i maschi prima Matilda Locatelli del Bolgare. Nella categoria G3 maschile anno 2015 vittoria di Simone Frettoli del Bolgare mentre la prima delle femmine al treguardo è stata Serena Ceracini dell'Almenno. Nella categoria G4 anno 2014 primo tra i maschi Chian Mariani della ceramica Pagnoncelli, tra le femmine prima Aurora Moretti dell'Osio Sotto. Nella G5 anno 2013 vittoria per distacco di Leonardo Zanardini del Mazzano, tra le femmine prima Eva Kucinskaya del Villongo. Una volata di gruppo ha deciso l'arrivo della categoria G6 nati nel 2012 con la vittoria di Cristian Rigamonti del Mazzano. Tra le femmine la prima è stata Giulia Ceroni della pedale brembillese. Duecento nuovi partecipanti dalla prima elementare alla prima media con partecipanti di squadre provinciali e anche extra provinciali. La gara è andata bene non c'è stata nessuna caduta tutto tutto bene insomma dai. Abbiamo qui anche due ex professionisti Beppe Guerini e Mirko Gualdi. A Beppe magari chiede un commento su questo percorso un po' particolare, un circuito. Ma è un percorso ondulato quindi è un percorso bello, chiuso il traffico completamente bello perché comunque lo si può vedere c'è un bel ritino finale quindi possono vedere i genitori, possono vedere i ragazzi nella prima finale e questa salitella che mette un po' alla prova questi ragazzi subito all'inizio e ma non poteva mancare quindi siamo all'alto piano e quindi qualcosina ci voleva. Mirko Gualdi invece giovanissimi nel ciclismo che cosa rappresenta questa categoria? Come crescono i ragazzi a quest'età? Ma è un primo approccio al mondo della bicicletta. Anno per anno poi si vedono i ragazzini che cambiano struttura fisica e quindi da quel punto di vista cambiano tantissimo e diciamo che non si dovrebbe guardare i risultati purtroppo molto spesso genitori in primis, allenatori e società ci guardano forse un po' troppo deve essere soprattutto divertimento a quest'età perché deve rimanere la voglia di far fatica negli anni più avanti se si vuole arrivare a un certo livello e arrivare al professionismo quindi qua deve essere divertimento puro passare una giornata in compagnia degli amici in compagnia di squadra e della famiglia. Un ringraziamento va soprattutto agli sponsor che ci danno una mano poi diciamo all'amico Benzoni, diciamo il nostro consigliere abitante di Crusone che grazie al suo impegno abbinato al nostro ci permette diciamo di organizzare una manifestazione diciamo di questo tipo